Buonasera, benvenuti all'Assemblea 2018 di Confindustria Toscana Sud, benvenuti qua nell'auditorium di GSK Rosia e partiamo proprio da questo elemento perché per noi è un grande onore essere qua e vorrei subito partire con un ringraziamento sentito a tutto, tutto lo staff della GSK perché non ci hanno semplicemente ospitato, ci hanno supportato e questo fa la differenza ed è molto importante. Siamo qua per celebrare la nostra assemblea annuale e probabilmente vi stupiremo perché l'assemblea di quest'anno sarà un po' diversa da come siamo abituati, abbiamo un po' rotto la consuetudine per lanciare una sfida che è partita già con il titolo che abbiamo scelto per questa assemblea, dentro o fuori. Non è una domanda, è uno stato di fatto e noi ci concentreremo su questo stato di fatto, racconteremo cosa vuol dire procedere in avanti oppure fermarsi. Però partiamo innanzitutto con il padrone di casa perché è venuto qua alla nostra assemblea il presidente Italia di GSK, Luis Arosamena, che chiamo sul palco accanto a me. Prendo il microfono. Allora, eccoci qua. È un grande onore avere il presidente Italia di GSK, siamo nella vostra casa quindi grazie innanzitutto. È un piacere. Allora, per noi è molto importante essere qua perché abbiamo scelto di porre questo quesito dentro o fuori. GSK ha scelto di stare dentro l'Italia. Partiamo da qua, presidente. Sì, sì. Anzitutto io vorrei a nome di GSK dare il benvenuto a tutti. È veramente un piacere per noi essere ospiti di questa riunione, di nostra associazione. L'altra cosa che vorrei dire è che mi scuso per il mio itagnolo, un po' italiano, un po' spagnolo, quindi se vuoi apprendi qualcuna parola in spagnolo, sono idioma cucini, quindi molto simili. Magari c'è una parola lì in spagnolo che vado a dire. Andando alla domanda, noi come GSK abbiamo due impegni fondamentali. Uno è verso il paciente. Verso il paciente fondamentalmente portando innovazione, portando innovazione per la prevenzione di una malattia, per la cura di una malattia, ma anche producendo prodotti di qualità. E l'altro impegno è verso l'Italia, facendo un contributo alla salute pubblica in Italia, facendo un contributo all'industria, a fare impresa all'export in Italia. E quindi per noi certamente siamo dentro. Siamo dentro di tanti anni e vogliamo essere dentro nel futuro. È molto importante. Essere dentro, stare dentro, chiede dire per noi, fare sistema. Creare le condizioni per condivire degli esempi, dell'esperienza, di creare sinergia e aprire nuove porte per il futuro. E qui in Siena, in Rossia, è un bellissimo esempio di questo. Qui abbiamo il ciclo completo del scoprimento, del sviluppo, alla produzione e dopo la commercializzazione di prodotti in Italia. E quindi innovazione, creare un sistema per essere sempre avanti, portando questa innovazione, è un bel riferimento delle cose che facciamo qui insieme, che siamo tanti orgogliosi. Luis, qui abbiamo alle nostre spalle anche una grande storia. Oltre 100 anni di uomini e donne che hanno dedicato il loro lavoro e le loro energie mentali in questa grande sfida, una sfida d'eccellenza, dal professor Sclavo al dottor Rappuoli. La sfida però del futuro è ogni giorno, essere eccellenti ogni giorno. Questo per mantenere poi l'attrattività di capitali stranieri. Certamente. È una scommessa che dobbiamo prendere tutti, che dobbiamo prendere ogni giorno. dobbiamo rimanere competitivi. Dobbiamo rimanere competitivi perché quello dopo dà l'opportunità per portare avanti gli investimenti. Dobbiamo sempre pensare in come possiamo fare le cose di maniera diversa, come possiamo essere un passo avanti. Certamente noi, come un'azienda di innovazione, di riserci e sviluppo, l'innovazione è chiave. L'innovazione va ultra di un prodotto, ma anche delle forme come uno va a fare le cose. Quindi il passato crea fiducia, ma la fiducia deve rimanere con le azioni che fai oggi e come tu vedi il futuro. Una battuta personale. Sei qua con la tua famiglia da un anno, vi siete trasferiti dal Brasile. Come si sta in Italia? Molto, molto bene. Sono molto contento di essere qui con la mia famiglia. No, veramente. Per le persone che non sapono, i miei nonni erano italiani. Ah, quindi vedi, c'era un destino allora. E' un destino. Quando le hai detto alla mia mamma che veniva all'Italia, era una cosa pazzesca. Non se lo poteva immaginare, no? Per la famiglia è bello abitare qui in Italia e per i miei figli avere questa realtà è una cosa che veramente sono molto contento. Grazie. Allora, l'ospitalità di Geschei non finisce nel grande supporto che hanno dato a tutti noi nella presenza del Presidente Italia, ma abbiamo anche una persona molto speciale per Siena, per la nostra città, per la Geschei, che è il dottor Rino Rappuoli, che in questo momento è in Olanda, ma ci ha mandato un videomessaggio a lui, che adesso vediamo insieme. Vieni, rimani qua con me. Vediamo il dottor Rappuoli. Buonasera, ciao a tutti. Sono in Olanda. Mi dispiace di non poter essere lì con voi oggi, ma sono molto contento che abbiate scelto il nostro auditorio qui a Geschei per la vostra Assemblea di oggi. Una delle ragioni per cui sono molto contento che abbiate scelto la nostra sede per la vostra Assemblea è perché per noi l'innovazione è sempre stata la bandiera con cui abbiamo portato avanti i nostri lavori, le nostre ricerche, le nostre produzioni negli ultimi 30-40 anni e è stato quello che ci ha permesso di vincere le battaglie, arrivare prima competitivi con prodotti nuovi a livello mondiale, attrarre investimenti che dall'estero sono venuti qui da noi e creare quella realtà che oggi state vedendo intorno a voi. In qualche modo il XXI secolo è il secolo in cui ci aspettiamo grandi cambiamenti nella scienza della vita e questi progressi hanno già cambiato la medicina, stanno cambiando il mondo, ma quando pensiamo alle scienze della vita si tratta anche se vogliamo risolvere i problemi del nostro pianeta o dell'energia dobbiamo rivolgerci a questo settore e quindi è un settore che sta andando avanti tantissimo, sta muovendo le economie mondiali e per fortuna è un settore dove il nostro paese se la può giocare perché abbiamo una bella tradizione, abbiamo una bella economia e ci sono delle regioni nel nostro paese che sono l'avanguardia in questo settore. Sono molto contento che una di queste regioni sia la Toscana e sono ancora più contento che nella Toscana Siena, Siena, Rosia, dove siete oggi, sia uno dei posti in cui la scienza della vita non solo è avanti nella ricerca, ma anche nel tradurre la ricerca in prodotti industriali che essenzialmente sono esportati in tutto il mondo e che danno un impatto alla nostra economia e creano posti di lavoro. Nel nostro settore dove dobbiamo fare le ricerche all'avanguardia è assolutamente essenziale tenersi al passo con le tecnologie, anzi possibilmente stare un passo avanti agli altri nelle tecnologie. Le tecnologie sono quelle che hanno rivoluzionato tutti i settori, hanno rivoluzionato la nostra vita, ma nel nostro settore hanno rivoluzionato il modo in cui lavoriamo completamente. Nel nostro caso particolare, nel sito dove siete oggi, 20 anni fa non riuscivamo a fare dei prodotti perché non avevamo le tecnologie, poi sono arrivate le tecnologie, quella più famosa che è arrivata da noi è stata la genomica che ci ha portato Craig Venter qui e che ci ha permette di fare un prodotto che oggi viene prodotto qui, oggi dove siete voi e quel prodotto è stato possibile solo a una tecnologia arrivata nel 1995. Nel 90 questo non c'era, non lo sapevamo fare. Parlo del 1995 e mi sembra di parlare dell'età della pietra, perché era 20 anni fa, più di 20 anni fa e quello che ci sembrava una rivoluzione allora, adesso è una cosa che fanno tutti, vecchissima. E quindi le nostre tecnologie sono aumentate. Mentre nel 1995 siamo riusciti a fare un prodotto che nel 90 non era possibile, nel 2010 siamo riusciti a fare prodotti che non erano possibili nel 2000. Oggi riusciamo a fare delle cose che non erano possibili 5 anni fa e io sono sempre sicuro che tra 10 anni o 15 riusciremo a fare delle cose che oggi non riusciamo neppure a immaginare. Quindi tutto questo porta nuovi prodotti, nuove idee, nuove poste di lavoro ma tutto questo succede se siamo capaci di saltare sull'ultima tecnologia e non essere innamorati di quello che ormai è vecchio e che non ci può più sostenere. So che lì da voi sul palco c'è una porta un simbolo che essenzialmente sta lì per dire se vogliamo stare nel passato oppure entrare nel futuro purtroppo adesso vi devo lasciare ma credo che il mio invito è quello che vi puttiate tutti al di là della porta e tutti insieme riusciamo a fare un passo avanti verso il futuro. Il futuro basato sulla scienza, la tecnologia, l'innovazione, la capacità di competere a livello mondiale è la cosa più importante quello che può creare posti di lavoro, dare serenità alla nostra economia, alle nostre famiglie, al nostro paese. Grazie, grazie al dottor Rappoio. Luis vieni al centro del palco. Grazie ancora a Jess Cave per la vostra ospitalità. No, grazie a tutti per essere qui e auguro una buona sessione. Grazie, grazie, grazie. Allora, dalle parole del dottor Rappoio avete già capito che c'è un invito che vogliamo fare a tutti voi, una riflessione che vogliamo aprire con tutti voi. Buonasera. Sono io. Non mi riconoscete. Eppure ci incontriamo tutti i giorni. Sono l'impresa, l'imprenditore, il lavoratore, il manager, il subfornitore, tutti insieme. Sono anche con industria. Sono chi tutti i giorni, con la sua opera, ingegno e serietà, crea valore per sé e per gli altri. Dentro o fuori? Qui c'è la porta. Quella stessa porta che ogni giorno io devo varcare mille volte. Dentro, responsabilità, impegno, fatica. Fuori, lamentele, attese, pregiudizi. Dentro o fuori? Sì, sì. Un'immagine forte che molti di voi penseranno non si addice al linguaggio pacato che sono solito utilizzare quando responsabilmente mi rivolgo alle istituzioni del nostro paese. Ma oggi non sono qui ad alzare la voce per una pur sacrosanta difesa di categoria. oggi sono qui, purtroppo, per un grido di allarme. Un grido che riguarda non solo me, non solo noi, ma tutto il nostro paese. dentro o fuori? Mi chiederete, da cosa? Prima di tutto, dall'impresa. o dentro e si accetta l'idea che le imprese tutte sono un valore e creano la ricchezza che poi può e deve sostenere l'equilibrio sociale del paese redistribuita, come si dice. o fuori. Continuando a credere, o a far credere, che esiste ancora una differenza di classe e che io, noi, possiamo essere additati come prenditori. o dentro all'impresa, alle mille difficoltà che ogni giorno affronto insieme a manager e collaboratori e che, nelle regole, cerco di superare per costruire un futuro, o fuori dall'impresa. Come chi vuole confondere le regole con il valore. La ricchezza, il valore, non si genera dal proliferare delle regole, ma dall'armonico e sostenibile sviluppo del fare. Quando qualcuno usa le regole per bloccare il fare, quel qualcuno sta bloccando il futuro e quello non sono io. E ancora, dentro o fuori dallo sviluppo, sono stanco di sentire chi vuole paragonare lo sviluppo del paese al vantaggio per pochi. È in natura il concetto che la crescita non avviene in maniera uguale per tutti, ma quando c'è sviluppo ci sono opportunità per molti. Questa non è una legge economica, è una legge della natura. Allo stesso modo è vero, però, che se si ferma lo sviluppo, tutti perdono qualcosa. Ma chi è più colpito è chi ha meno. Io non voglio che accada. Io credo in un paese che si sviluppa e che sostiene i deboli. Mente! Chi promette sostegno senza sviluppo. dentro o fuori dalla verità. La verità. Oggi un bene raro. Fagocitato dalle mille opinioni, dalle mille fake news, dai mille proclami. Io sto dentro la verità creata tutti i giorni con il mio lavoro. Verità concreta, come gli oggetti e i servizi che tutti i giorni produco. Dentro questa verità c'è la scienza, la conoscenza, lo studio, l'ingegno. Fuori c'è l'arroganza, l'incompetenza, i pregiudizi. Dentro la verità di tutti i giorni, così difficile da capire, c'è il dialogo aperto, vero, responsabile. Fuori c'è l'incomprensione, il conflitto, il potere. Ed infine, dentro o fuori dai nostri confini. Quali sono i nostri confini? Dentro dove? Dentro l'Italia dei suoi valori, della sua storia, della sua bellezza. Dentro la forza dei suoi uomini e delle sue donne. Ma fuori dall'Italia di chi propone false e facili ricette per risolvere situazioni che facili non sono. Dentro l'Italia di chi, come me, ogni giorno deve cercare qualcosa di nuovo per migliorare quanto ha fatto il giorno prima. Ma fuori dall'Italia della moderna politica, che invece di migliorare quanto fatto il giorno prima, legittima se stessa distruggendo ciò che trova. Ed infine, dentro l'Europa. L'Europa del progetto sociale ed economico. Un'Europa sì da migliorare e con forza, ma non da usare per nascondere le nostre responsabilità. Ora, dentro o fuori, dentro o fuori, anche oggi, ora, ho dovuto pensare e decidere dove stare. Decido di stare dentro l'Europa, dentro l'Italia, dentro la verità, la scienza, dentro lo sviluppo sostenibile, dentro l'impegno, la responsabilità, il dialogo. Decido di stare dentro l'impresa insieme a chi, come me, si impegna e lavora tutti i giorni. Chiedo che nessuno resti fuori. Non ha senso che ci sia chi sta dentro e chi fuori. Non possiamo permettere che una porta divida parti importanti del nostro paese. La politica, le imprese, i sindacati, la gente comune. Chiedo che tutti si sforzino per eliminare questa porta e costruire un paese dove poter, con coraggio ed impegno, far crescere le nostre imprese, i nostri collaboratori, le nostre famiglie. Io ho finito. Ora a voi. Io entro.